benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui con questo video molto particolare perché quello di oggi è il pagellone 2021 le nostre valutazioni su tutto quello che è accaduto in questa stagione di world of warship comandanti quello che voglio fare oggi è sostanzialmente un bel gioco con voi no no aspetta no non sto parlando di te no non voglio fare un gioco con te via fila vai da niscino in fondo al corridoio lo trovi là in fondo vai se voglio fare un gioco con voi comandanti un gioco dove cercheremo di portare un po quelle che sono le nostre opinioni ci sono anche dei voti in vale alla fine ho fatto la media voti per dare il voto finale di bilancio a questa stagione 2021 vi invito a commentare sotto se volete per farmi sapere la vostra opinione magari sono dimenticato dei punti se ho messo dei particolari se magari secondo voi i voti sono esagerati fatemi sapere quello che pensate alla fine del video perché è molto importante la vostra opinione considerando che prenderò i vostri commenti farò delle traduzioni e li porterò come feedback generali per la community alla wargaming nel discord community contributor cominciamo con il primo punto del del video ovvero premium ship siamo sempre qua comandanti tantissime navi in rilascio anche quest'anno voto 4 comandanti alla quantità di navi premium rilasciate quest'anno tra carbone acciaio navi a pagamento navi in altre modalità sapete quante sono le navi rilasciate premium quest'anno ve lo dico io sono ben 36 36 navi premium rilasciate solo nel 2021 sono un numero gigantesco un numero gigantesco comandanti che secondo me è anche troppo esagerato perché dovrebbero magari rilasciare meno navi e più modalità di gioco ma la wargaming da questo punto di vista sembra non sentirci particolarmente un altro lato positivo invece per quanto riguarda sempre questo bilancio voto 8 alle nuove corate tedesche a mio avviso grande generata della wargaming alleggerire il ramo creare una variante secondaria potente come quelle vecchie ma maggiore velocità calibro dei cannoni diverso al tier 8 molto più mobili il siluri a bordo che le rendono anche molto più performanti nel combattimento ravvicinato secondo me sono il miglior ramo del 2021 per quanto riguarda il divertimento in acqua e hanno sostanzialmente obsoleta e poco giocata anche in altre modalità di gioco chissà che la sciflina in futuro non possa trovare spazio anche nel competitive e anche in altri reparti di world of warship quindi secondo me un bel otto alle nuove corate tedesche voto 2 alla famosissima vicenda dei community contributor estiva non potevamo dimenticarcelo accaduto tra l'agosto e il settembre di quest'anno è stata una gigantesca ed enorme figura di merda della wargaming in mondo visione con ben oltre 20 community contributor che hanno lasciato il programma tra cui anche dei nomi storici anche se la grande maggioranza è rimasta e anche se la wargaming sostanzialmente a livello statistico se ne lava le mani perché ha un enorme bacino di community contributor ancora oggi di cui può disporre comunque la risonanza e lo scandalo che c'è stato è stato notevole come anche il disappunto e l'enorme scontento dei giocatori in seguito anche alla vicenda della missuri e alla vicenda di april white mouse di come è stata trattata una delle più importanti figure a livello community di world of warship specie negli stati uniti e lingua inglese quindi un bel voto 2 al vicenda cc ci sta tutto voto 10 ai rocket rework cv ovvero al cambiamento dei razzi a bordo delle porta aerei come sapete i razzi erano da sempre l'avversario numero uno dei destroyer che venivano completamente cancellati nell'arco delle partite il rework dei razzi ha permesso ora ai destroyer di vedere effettivamente dove cadranno i razzi e quindi gli agevola diciamo nelle manovre e nel evitare quella che prima era una spazientosa fonte di danno che pioveva dal cielo questo permette ai destroyer di essere maggiormente diciamo efficaci in partita e devono essere uccisi dopo pochi minuti all'inizio della battaglia quindi questo rework secondo me ci sta tutto certo e le portare continuano a fare grandi danni sui cruiser e sulle corazzate ma almeno i dd diciamo che per la maggior parte riescono ancora oggi ad essere giocabili molto più di prima quindi un bel 10 ci sta tutto voto 3 alle corazzate italiane rilasciate tra il marzo e l'aprile maggio del 2021 sono stati un ramo assolutamente pessimo uno dei peggiori rami battici secondo me in generale di tutto world of worship ammesso dalla wargaming stessa che durante quel messaggio di scuse a settembre sempre in seguito alla vecenda community contributor e dissero apertamente che anche loro avevano capito che rilasciare le corazzate italiane in quello stato è stato un errore perché perché sono resi conto che erano sotto performance spesso da altri rami battici quindi loro stessi hanno ammesso di aver fatto diciamo la pisciatina fuori dal vaso e purtroppo però la modifica che c'è stata è stata completamente insufficiente e ancora oggi queste corazzate non sono assolutamente pari secondo me ad altre almeno in linea di massima quindi un bel 3 secondo me ci sta tutto voto 10 ai premi del king of the sea questo per come sapete hanno finalmente deciso di mettere premi veri al king of the sea premi in soldi molti premi da decine di migliaia di dollari in particolare l'international più che al cost ma comunque è sempre il king of the sea international series sarebbe la serie con i vincitori del king of the sea ma comunque è riconducibile a quel torneo ora perché è importante questo aspetto perché non solo permette ai giocatori veterani di poter monetizzare la loro esperienza ma permette anche a team importanti anche di altri giochi di avvicinarsi magari a world of worship cercando di portare maggiore pubblico e quindi attenzione sul titolo della wargaming non è un caso se proprio nelle ultime settimane forse non lo sapete i pentagaming noto team e sport con sede a berlino ha preso sotto la sua ala protettrice i tva ovvero i bansivi facendoli diventare tutti gli effetti un loro team quindi diciamo che i bansivi diventano il primo vero team pro ufficiale di world of worship chissà che anche altre grandi squadre del panorama e sport possono avvicinarsi al world of worship proprio grazie ai premi e alla risonanza che twitch può dare ai tornei come il cozz due volte l'anno voto 1 a quello che forse è l'evento negativo peggiore dell'anno ovvero il i sommergibili ma non tanto l'arrivo dei sommergibili perché come se pensi sono sempre stato positivo e favorevole all'inserimento dei sottomarini in world of worship il voto 1 sta per il fatto che è per come li stanno sviluppando comandanti li stanno mettendo nelle random nelle ranked utilizzano i server aperti i server europei americani asiaci come server test di fatto utilizzando le partite vere come partite di test andando a inquinare tantissimi risultati e gli scontri che magari significano tanto per i giocatori che vorrebbero divertirsi e non vedersi le classi che non conoscono in acqua completamente rivoluzionate dal giorno alla notte tra l'altro la wargaming non sembra veramente avere bene in mente cosa voler fare con i sommergibili e ancora oggi io non so cosa vogliamente vogliono fare in futuro ecco perché non ho ancora fatto un video sui sommergibili nella blizz academy secondo me per come li stanno gestendo e sviluppando il voto 1 è un voto sacrosanto e assolutamente corretto non so cosa pensate voi fatemelo sapere nei commenti voto 10 al king of the sea ascoltate all'italian master ovvero italian master 2021 il torneo che c'è stato praticamente a maggio grazie a fev niroth lo niscino e riki è stato un torneo grandissimo il più grande torneo per presenza italiana copertura streaming ascolti monte premi un vero e proprio successo e quindi sicuramente andava diciamo catalogato come uno degli eventi più importanti di world of worship in italiano almeno per questo 2021 tra l'altro tutti e quattro gli organizzatori sembra aver dato le dimissioni dal programma privatier diciamo dal programma di sviluppo degli eventi del master quindi non sappiamo se ci sarà un master 2022 ecco perché ancora di più questo voto 10 acquisisce valore considerando che questo potrebbe essere a tutti gli effetti il primo e ultimo master della storia della community italiana voto 10 secondo me ampiamente meritato voto 2 alle clan battle tier 6 estive ancora una volta la wargaming ha voluto fare queste clan battle estive tier 6 non sembra di imparare dei propri errori le clan battle tier 6 dell'anno scorso sono state totalmente un fallimento in estate le meno giocate di sempre quest'anno ancora una volta si sono ripetuti e ancora una volta hanno commesso lo stesso identico errore con le clan battle disertate praticamente da quasi tutti il tier 6 non è un tier da clan battle e la wargaming ancora si ostina a non capirlo la cosa più grave di questa vicenda è che le clan battle tier 6 hanno dato anche il si dal king of the sea che si gioca invece come sapete al tier 10 c'è un nesso in tutto questo? no comandanti non c'è ma forse per la wargaming deve esistere altrimenti certe scelte sono inspiegabili comandanti passiamo ora al voto 7 per i 6 anni di world of warship con quell'evento con i super container per una volta hanno dato dei veri premi molto belli a chi è qui dato tempo e ha potuto massimizzare al massimo il fatto di avere tanti tier 10 quindi tanti super container a disposizione era ora l'anno scorso invece il sesto anno era stato festeggiato in maniera piuttosto ridicola questo nuovo evento è sicuramente stato superiore e sicuramente è un bel 7 e lo merita tutto voto comandanti 5 tendenti al 6 per quanto riguarda ormai le ranked diventate anche le famose ranked farming il fatto comandanti è che l'acciaio fa gola a tutti e fanno bene a metterlo nelle ranked perché effettivamente permette a chi non fa le clan battle di ottenere acciaio per le navi speciali però comandanti hanno perso completamente di valore il fatto che si giochino come un farming tutte le settimane continuamente hanno perso il significato anche perché poi i rank vengono resettati velocemente di conseguenza non c'è più quella fiamma che ti spinge a fare il rank 1 come prima e le rank hanno perso totalmente quel poco di significato che avevano prima dal mio punto di vista quindi ok al farming steal ma pessime di trasformare le classificate come delle random battle da farmare comandanti voto 8 al container drop rate pubblico finalmente in seguito anche al vicenda community country ma soprattutto in seguito alle denunce ricevute in america in belgio in cina per il sistema delle lotterie con i container l'augremi finalmente ha deciso di pubblicare quelle che sono le percentuali di vittoria e di drop all'interno di questi container questo sicuramente le fa onore quindi il voto 8 è giusto anche se è un voto 8 un pochettino forzato perché non so effettivamente quanto questa scelta sia volontaria o forzata per cercare di impedire delle class action o delle cause legali internazionali in seguito al fatto che possano diciamo soverchiare un sistema che invece dovrebbe essere molto più chiaro almeno per quanto riguarda le lotterie e drop rate quindi il voto 8 è questo voto 1 al fatto che non abbiano pubblicato nemmeno una nuova mappa nel 2021 neanche una hanno detto che ne pubblicheranno solo una nel 2022 ma ci hanno lasciato completamente a secco quest'anno quindi il voto 1 secondo me per le mappe è sacrosanto voto 3 al rework delle skill comandanti avevamo detto che questo rework permetteva nuovi setup tante skill utili tante cose nuove divertenti da fare in realtà hanno semplicemente aumentato la quantità di axe sufficiente per arrivare a 21 obbligando magari la gente a scioppare e le skill sono rimaste comunque poche quelle utili di fatto andando a monopolizzare dei setup che sono quasi tutti identici quello da battlecruiser, quello da flanker, quello da lightcruiser e i due da batterci secondario o principale stop sono quelli che si ruotano le skill hanno perso completamente valore sono sempre quelle che vengono utilizzate quindi secondo me il rework è totalmente fallimentare voto 1 alle porte aeree sovietiche che sono assolutamente spaziali e sbilanciate dalla scala of premium passando anche per comandanti soprattutto per la tier 10 che è un mostro assassino guardate le porte aeree sovietiche che non voleva nessuno e che non sono mai esistite sono completamente sbilanciate e potentissime nessun senso come ramo voto 1, voto il più basso possibile e infine voto 5 alla vicenda del community manager italiano e al taglio delle risorse italiane per quanto riguarda comandanti il discorso legato al taglio delle risorse per la community italiana ciaoone al forum italiano ciaoone al community manager che non si è visto prolungare il contratto al termine dei due anni ciaoone al server discord dedicato e forse chissà ciaoone anche al sovvenzionamento dei tornei chissà quasi altro in futuro di fatto la wargamer ha deciso di non investire più sul nostro territorio anche se comunque i destroyer sono ormai vicinissimi e pronti al lancio arriveranno infatti in primavera inoltrata comandanti andiamo quindi al bilancio finale di quello che è il pagellone 2021 sommando quelli che sono i lati positivi e i lati negativi la media voti che ci offre praticamente Mitral in tenuta natalizia è 4,5 un po' anche Mitral ha un po' di mal di testa perché anche lui capisce che la cosa è un po' negativa quest'anno ma lo era anche l'anno scorso questo 2020 e questo 2021 non sono stati secondo me veramente il massimo del massimo visti in World of Wars ci credo di aver visto oggettivamente di meglio nelle annate precedenti speriamo che questo 2022 possa portare qualcosa di nuovo perché da quando è arrivato il covid la wargaming ha perso tantissimo secondo me all'interno di questo gioco e continua a fare dei passi indietro speriamo magari che i destroyer italiani e qualche altro qualcosa di nuovo possa portare ventate di novità in un game che veramente è sempre più statico sempre più scarso di emozioni e secondo me anche scarso di idee questo continuo buttare fuori i navi premium questo continuo e andare a cercare delle cose che la community non chiede sono degli eventi secondo me che poi scoraggeranno i player è vero che hanno comunque come dico sempre un reflusso continuo dei giocatori che arriva scioppa e poi se ne va però comandanti ogni tanto anche tenere d'occhio quelli che sono i giocatori veterani e cercare magari di fidelizzare la clientela non sarebbe poi una cosa negativa e la origami forse questa considerazione prima o poi dovrebbe farla comandanti fatemi sapere quello che pensate voi di questi voti e quello che voi pensate del gioco piacerebbe molto sapere quella che è la vostra opinione al riguardo io vi aspetto durante la settimana su Twitch colgo anche l'occasione per augurarvi un buonissimo 2022 questo perché questo sarà l'ultimo video del 2021 vi ringrazio sempre per il vostro incredibile supporto siamo quasi arrivati a 2000 iscritti anche qui su YouTube ma soprattutto vi ringrazio tutte le persone che si abbonano su Twitch tramite anche Amazon Prime e sostengono tutti i nostri canali con hardware tutto quello che serve per cercare di migliorare le nostre produzioni da Blizzard e da Mr. Gray nascosto sul divano da qualche parte a mangiarsi i cioccolatini è tutto comandanti come sempre alla prossima comandanti buon anno e buona caccia